La parola al Presidente dell'Aggiunta regionale e poi passiamo al voto del primo e poi del secondo documento. Prego Presidente. Il formale impegno dell'Aggiunta regionale è di dare attuazione ai progetti del Masterplan, riferendo periodicamente in Consiglio regionale del loro stato di avanzamento. Questo l'esito del Consiglio straordinario dedicato ieri al Masterplan per il Sud, il grande piano finanziato con fondi europei e statali, che prevede in Abruzzo, una tempistica serrata nei prossimi anni, 77 interventi dal valore di 1,5 miliardi di euro. La richiesta è stata formalizzata in un documento di maggioranza a firma dei consiglieri Camillo D'Alessandro, Alessio Monaco, Luciano Monticelli, Alberto Balducci, Sandro Mariani, Silvio Polucci, Lucrezio Paolini, Lorenzo Berardinetti e Mario Livieri. Le opposizioni di centrodestra e Movimento 5 Stelle non hanno però risparmiato critiche nel merito e nel metodo all'iter che ha portato all'individuazione degli interventi previsti nel Masterplan, senza una vera strategia di lungo termine. E sia Mauro Febbo di Forza Italia, che sarà Marcozzi del Movimento 5 Stelle, hanno evidenziato che tutto quasi nella partita del Masterplan è stato di fatto deciso da Luciano D'Alfonso e pochi altri suoi fedelissimi. A replicare con vemenza lo stesso presidente D'Alfonso, che invece ha illustrato le strategie complessive che hanno portato a individuare i singoli interventi, scelti, ha ricordato il presidente, in base alle priorità indicate in autonomia da ciascun territorio, accusando insomma l'opposizione di esprimere generiche critiche senza costrutto. La maggioranza compatta ha dunque respinto il documento della minoranza in cui si esprimeva preoccupazione per l'iter seguito nella stesura del Masterplan in quanto prevede interventi parcializzati che ne vanificano l'efficacia e in cui si denunciava che i fondi europei della programmazione 2014-2020 sono totalmente inutilizzati e che quelli del Fondo europeo per lo sviluppo e la coesione 2017-2020 rischiano il disimpegno.